Devo fare i complimenti innanzitutto a Emanuela Rossi perché con determinazione ha costruito questo progetto e grazie a tanti collaboratori e soci è riuscita a mettere in campo una realtà ormai strutturata. Cinque anni significa aver raggiunto un bel risultato, aver superato tante diffidenze che c'erano all'inizio. Io stesso non pensavo che potesse reggere così forte, entrare nell'immaginario della città in maniera così forte. Invece aveva ragione lei, va dato atto ed è una tv ormai riferimento della città, tante persone la seguono ed è anche una grande opportunità per il comune perché grazie a questa tv noi siamo riusciti meglio a comunicare i servizi, a comunicare le iniziative, a comunicare l'appil turistico e quindi è davvero un grande servizio pubblico che questa tv privata fa. Quindi davvero complimenti per quello che è stato fatto, anche per il rilievo che si dà allo sport locale, alle eccellenze locali, alle imprese del nostro territorio. Quindi davvero un arricchimento non soltanto del sistema comunicativo ma complessivamente del nostro territorio. Quindi viva Rossini TV e ci vediamo tra cinque anni a festeggiare il decennale.